Per la prima volta la città metropolitana di Napoli sarà al Salone Mondiale dell'UNESCO. Le meraviglie dell'area metropolitana riconosciuta e patrimonio mondiale dell'umanità, Napoli con il suo centro storico, Pompei, Ercolano e Torre Annunziata con i rispettivi siti archeologici, saranno presenti al World Tourism Expo, il Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio UNESCO, che animerà il Palazzo della Ragione di Padova dal 18 al 20 settembre prossimo. Il tutto nell'ambito di uno spazio espositivo allestito dalla città metropolitana, che coordina la partecipazione all'evento e che ha deciso di allargare l'offerta ospitando anche Nola, la cui festa dei giri è stata di recente insignita dell'importante sigillo, i comuni di Cimitile, Pozzuoli e Bacoli, che si accingono a presentare la loro candidatura, ed i comuni ricadenti nella cosiddetta Buffer Zone dei luoghi già riconosciuti, quali Portici, Castellammare di Stabbia, Bosco Reale, Bosco Trecase, Trecase e Torre del Greco. Il VTE, la bossa annuale che si pone l'obiettivo di esaltare le peculiarità dei beni UNESCO, offrendo agli espositori una vetrina qualificata e organizzata, con opportunità di incontro con i principali buyers, tour operators e giornalisti del mondo, giunge quest'anno alla sesta edizione e finora non aveva trovato l'adesione dei siti dell'area metropolitana partenopea. Noi dobbiamo costruire l'area metropolitana di Napoli, come la costruiamo? Se non attraverso un'integrazione, attraverso quelle che sono le sue forze uniche o comunque poche aree di sviluppo. Noi pensiamo che un turismo, un turismo anche culturale, un turismo anche mondiale, un turismo che goda non solo delle bellezze, ma anche delle eccellenze, per esempio le eccellenze culinarie della nostra zona, possa costituire una leva perché nella nostra campania non vi sia più il 40% dei giovani disoccupati. La città metropolitana ha programmato inoltre nella giornata di sabato 19 due convegni, uno per una presentazione generale dei siti ed un altro in cui sarà illustrato il grande progetto per il centro storico di Napoli. Prossimi obiettivi dell'intesa sono quello di creare itinerari turistici su tre direttrici, Vesuviana, Costira, Nolana e Flegrea, che partano proprio dalla rete dei siti UNESCO, oltre ad un sistema di eventi da distribuire durante tutto l'arco dell'anno, nei vari siti senza sovrapposizioni, coniugando cultura e turismo di qualità. Alla conferenza di stamani hanno preso parte, tra gli altri, i sindaci di Nola e di Tre Case, Geremia Biancardi e Raffaele De Luca, Margherita Beatrice e Alessandra Tabernacolo, assessori rispettivamente ai comuni di Pompei e Torre del Greco, e Francesco Iovino, consigliere metropolitano. Grazie a tutti i nostri spettatori,